Fiumi di parole e parole ancora sull'annosa vicenda dei lavori sulla Caltanissetta Grigento e sulla Grigento Palermo. Un cantiere infinito che aspetta da anni la definitiva soluzione e permetta agli automobilisti di avere, come del resto d'Italia, una viabilità moderna ed efficiente. Ed invece ancora nulla di fatto tra le imprese e la CMC, il gruppo di riferimento Ravennate che vive momenti di crisi finanziarie ed ha bloccato tutto, lavoratori, fornitori, imprese, a danno della Sicilia e dei siciliani. In queste ore si è svolta a Palermo, all'assessorato alle infrastrutture, la riunione per verificare lo stato di fatto. Presenti i rappresentanti del provveditorato interregionale delle opere pubbliche, i dirigenti di ANAS, le società di progetto Empedocle II e Bolognetta, di rappresentanti di CMC, oltre a di rappresentanti del Comitato dei Creditori. Il vertice, ha detto Falcone, assessore alle infrastrutture, si è rivelato proficuo ma non risolutivo. È stato chiesto alla società CMC un piano industriale per capire se vi sono ancora margini di rilancio, come far ripartire lavori, con quali imprese e in quanto tempo verranno realizzate e con quali modalità. Diciamo in una sola parola, tutto da capo. Affrontato il tema dei pagamenti alle imprese, se nei prossimi giorni ci verrà sottoposto un piano industriale convincente, dettagliato e sostenibile, si potrà andare avanti con l'attuale assetto, ha dichiarato il rappresentante dell'ANAS. Diversamente, bisognerà ripartire da capo. La CMC conclude Falcone abbia un sussulto d'orgoglio nel rispetto del popolo siciliano che ha diritto a godere di infrastrutture moderne ed efficienti in tempi celeri.